Meglio di così non si poteva, nel senso che il Chieti sicuramente è stato un Chieti piuttosto prudente, venivate da una sconfitta, quindi il riscatto ci voleva, sono arrivati i tre punti, tutto grasso che cola, le partite vivono anche di episodi. Siamo stati bravi a capitalizzare quello che è successo nell'episodio del rigore, sicuramente ci sono note positive e note negative come lo saranno ancora per altre partite, la cosa che voglio dire è fare i complimenti ai ragazzi perché hanno lavorato in sofferenza insieme e il saper soffrire in questi campionati può essere determinante. Di partite sporche durante un corso di un anno ce ne sono, questa è una categoria dove tante volte il bel gioco non serve ma non perché non lo devi fare e questo sicuramente è una nota importantissima perché vedere una squadra che fino alla fine ha stretto le maglie, ha sofferto insieme, ha lottato fa piacere perché è una base su cui dover lavorare. È ovvio che bisogna migliorare sotto tanti punti di vista e noi abbiamo una settimana importante da fare e continuare sul percorso che abbiamo avviato il 2 agosto e gradualmente cercare di trovare situazioni che ci permettano di crescere sotto tanti aspetti. Il vostro portiere Mercorelli sicuramente forse è stato il migliore in campo dei vostri però ciò non toglie che tutta la fase difensiva è stata funzionata molto bene perché avete limitato uno che di gol ne ha già fatti tre cioè Martiniello. È importante riuscire a non prendere gol perché comunque la squadra che non subisce prima o poi il gol può capitare di farlo e questo ti permettere poi di vincere le partite. Per ora ci prendiamo i punti che sono fondamentali, faccio i complimenti all'Ancona per la bella prestazione disputata, è una squadra che sicuramente in questo percorso sarà tra le prime candidate insieme ad altre squadre come noi e quindi questo ovviamente ci fa ancora più piacere perché riuscire a vincere qua non era facile. Stadio del Conero di altra categoria così come pubblico di altra categoria siete stati seguiti voi in particolare da oltre 500 tifosi? Vedere quella coreografia e la gente che ti segue così in massa non fa solo che piacere ai ragazzi e questo penso che sia poi il giusto merito anche per loro che fanno chilometri, lasciano le famiglie, spendono soldi per seguire la propria squadra del cuore e la vera riconoscenza e il vero riconoscimento nei loro confronti è quello di essere stati bravi a dare tutto quello che avevamo in questo momento. Questo sicuramente gratifica il fatto che i ragazzi non si possono rimproverare nulla. Un ultimo flash proprio rapidissimo Ignoffo. In genere questa domanda si fa ai calciatori ma questa vittoria a chi vuole dedicarla? I ragazzi credo che è una giusta vittoria. Noi la vogliamo dedicare un po' a tutto quello che è successo in questo mese, a tutte le vicissitudini che questi ragazzi hanno attraversato, a quello che sta cambiando e soprattutto ovviamente le persone che ci stanno vicino, quindi tifosi, squadra al completo, ragazzi che giocano meno, chiunque sta facendo il proprio dovere e questo credo che sia il giusto riconoscimento.